Ciao amici, sono Alexei Ogniev, il CEO dell'ecosistema DGU. Oggi siamo a Mosca, al forum internazionale su blockchain e criptovalute blockchain live 2021. La squadra di EVA è qui con il suo stand. Baris è il fondatore del progetto e tutta la squadra presenta il crosschain data protocol EVA. Ciao a tutti, oggi presentiamo la squadra di DGU con il progetto EVA, protocollo crosschain, su blockchain live 2021. Oggi abbiamo comunicato abbastanza attivamente con la comunità, con tutti quelli che ci hanno avvicinato. Posso dire che c'è molto interesse verso il nostro progetto, hanno dimostrato grande interesse dei partecipanti che si occupano dei vari progetti NFT, visualizzazione dei token NFT in diverse reti. Parliamo con le persone, scopriamo nuovi progetti, parliamo delle opportunità che EVA e l'ecosistema di EVA presentano per gli sviluppatori, per i clienti e per l'intera comunità blockchain.